La campagna ormai sono quasi due anni che si è costituita, è una realtà che attraversa mondi, culture diverse e che però vuole porre l'attenzione del paese e delle istituzioni su questo dramma che è il gioco d'azzardo patologico. Una campagna che è formata di diverse anime, quelle del sistema di cura, dei servizi pubblici, le comunità, i gruppi d'autoaiuto, la rete dei comuni, dell'Anci, delle autonomie e tutta la parte dei sitacati, CGL, CISL, UIL, le grandi associazioni nazionali, l'Arci, le Acri, l'Ause, la UISP, l'Azione Cattolica Italiana, tante realtà che insieme e con i consumatori, tutte le realtà che vogliono creare questa attenzione. Voglio dire con il mio essere qui l'appoggio della Chiesa a questa campagna, l'appoggio convinto e sincero perché è una battaglia di civiltà, è una battaglia di umanità, è una battaglia per la dignità dell'essere umano. Dobbiamo chiarire l'importanza della società civile, il ruolo delle associazioni nella nostra democrazia. Ho incontrato, mettiamoci in gioco, che lo ricordo rappresentano 28 associazioni, le ho incontrate a Montecitorio e oggi sono qui. Sono qui non perché io sono buonista, ma perché ho deciso di non essere sorda alle stanze della società civile, alle grandi questioni del nostro paese. Ecco, allora le associazioni hanno anche la capacità di aggregare la politica. Io sono molto contenta del fatto che oggi a Montecitorio ci sia un gruppo di parlamentari, sono circa 100, di tutti i gruppi che insieme lavorano per arrivare a un provvedimento che regoli questo fenomeno. Questa è la delibera, lo stragio della delibera che decide all'unanimità di togliere le macchinette, ma questo è un atto concreto. Poi c'è un atto legale che l'Arci provinciale, grazie, ci aiuterà a sostenere per fare l'iter pratico per rescindere il contratto, quindi le raccomandate, le eventuali penalità. Quindi se lei simbolicamente ce lo vuol chiudere... Allora, come lo chiudo? Chi sta pensato a vinto? Ha vinto, no? Ha vinto! ecco c'ho un futuro adesso è difficile e riprendi ok si va bene grazie ragazzi